Io di un fascicolo di Emanuele Landi so che esisteva, quindi forse quello che hanno visto sulla scrivania di Benedetto XVI, ed è il fascicolo dell'eco della stampa che Monsignor Scotti, che era archivista in segreteria di Stato, mi mostrò. Erano gli echi della stampa e tutte le dicerie, perché appena uscì il nome del Vaticano per una ragazza scomparsa a Roma, che poteva aver fatto tristemente chissà quale fine, il Vaticano fu bersagliato e fu raccolto l'eco della stampa, che fu portata al Papa. Ma io di altre cose non ho notizia che ci sia nessuna inchiesta. Comunque, se il Tribunale Vaticano dice di avere tante carte impolverate, prima o poi penso che le faccia vedere.